Buongiorno ragazzi, come state? Io tutto bene, sono il Pazzerello, sto andando adesso alla stazione Porta Nuova che per le 7.30-8.15 mi trovo con Marco, Elisa, Gabriele e Marcello che adesso andremo a Savona a farci questa bella gita e speriamo che sia una bellissima gita anche se sono previste nuvolosità così, nuove sparse, però ci sarà un po' di sole e speriamo il bene ciao ragazzi, a dopo, ci vediamo dopo, ciao ciao ragazzi, siamo Marco e il Pazzerello benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo in gita a Savona come promesso vicino a noi ci sono Gabriele Locorotondo, Elisa, la staffa dei video e Marcello nei nostri video di partecipe ciao ragazzi, a dopo, adesso facciamo il nostro viaggio e andiamo a Savona ciao ragazzi, buona visione ok, ora Gabriele Locorotondo buongiorno, grazie non ce l'ho ok la dichiaro in arresto ti arresto io e con te e con te e con te e con te Gabriele Locorotondo nato il 25 febrile noi c'è la stessa la stessa vediamo mi scusi mi scusi collega questo è valido ma che scaduta è scaduta no dammi questa è valida faccio con te devo ascolta e Non, ma anche se il che è possibile Non sentire Guardala che la resta La macchina è quella di dentro La macchina è quella di dentro Gli comunque cento l'euro Glito, come taglia Smetti Vi faccio la macchina Mi leggo i Tieto Ossesiamo Tu non devi stare con nessuna lagrazza Cosa è la macchina ciao ragazzi siamo a Savona qui c'ho Elisa e Marcello perché Mark e Gabriele sono andati un attimo in negozio che adesso vi faccio salutare ragazzi salutate Savona che siamo a Savona ciao ragazzi a dopo adesso andiamo nel porto di Savona a dopo ragazzi ciao 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 ragazzi siamo nel porto di Savona saluta Mark ciao a tutti come vedete siamo al porto quello di Savona e qua dietro alle mie spalle vedete la crociera vedete che bello sembra più piccolo ma in realtà non lo è per niente vedete molto grande e qua come vedete c'è anche il canale con tutte le barche spero che vi piace tanto a dopo ragazzi ci vediamo dopo dovete scusarmi per il tempo ma oggi è prevista nuvi sparse dove ci sono un po' di nuvele però il tempo è bello si tiene bene fa un po' frescolino ok ragazzi a dopo qua ragazzi è tutto il pezzo di Savona dove c'è il canale qua la crociera parcheggiata dove si fa la crociera qua come vedete il grattacielo vicino nel porto di Savona ecco qua spero che vi piace ragazzi siamo vicino alla spiaggia nei giardinetti di Savona per fare il nostro pranzo con la focaccia facciamo vedere le focacce un pochettino tutte qua ciao ragazzi buon appetito ciao ragazzi a dopo ciao ragazzi siamo in spiaggia al mare di Savona che abbiamo finito di mangiare siamo qua ragazzi un saluto ciao anche qua marcello ciao ragazzi ci stiamo tutti divertendo caro elisa 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 sei già ripresa fai un saluto a youtube che ti saluta tutti e ti fa un ringraziamento enorme come la vespa come c'è la vespa madonna ragazzi qua siamo nella maria lì e quasi mi spiaggia a vedere tutto il mare dice lo scoglio c'è tutto che ne pensate del mare di Savona ragazzi è una meraviglia ciao a tutti ragazzi buona giornata eccoci qua salutate qua ecco qua ragazzi siamo allo scoglio che stiamo vedendo le onde del mare negli scogli che ne dite ragazzi le onde negli scogli di Savona qui uno spettacolo e ragazzi ciao ragazzi siamo alla stazione di Savona che stiamo ritornando a Torino Porta Nuova tra poco arriva il nostro treno per Porta Nuova ecco qua i miei amici anche lisa c'è qua bene ragazzi ci vediamo tra poco la linea treno dei saluti ciao ragazzi ebbene ragazzi siamo arrivati al momento della fine del video come avete appena visto adesso sono in treno con i miei ragazzi tutti quanti qua ciao ragazzi e come potete notare anche la mia faccia sono un po' brondata perché ho preso un po' di sole oggi che c'era un po' di sole oggi in spiaggia speriamo il bene spero che questo video vi sia piaciuto la getta di Savona e speriamo con tutto il cuore ok ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video con con il mio amico o Mark saluta un saluto da un saluto da Mark e saluto da Pazzarella ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video se aggiungiamo almeno almeno 3000 mi piace in questo video faremo un altro video molto divertente speriamo di bene ok ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video alla prossima ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.